5. Questo tutore è progettato con 6 molle di rinforzo che forniscono una notevole stabilità e offrono una protezione particolarmente efficace. Le doppie cinghie regolabili permettono di regolare la posizione del tutore secondo le proprie esigenze, così come il livello di compressione. La sua grande flessibilità permette una grande libertà di movimento durante l'allenamento sportivo, il lavoro e il sollevamento di oggetti pesanti. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. 4. Adatto a tutte le stagioni, realizzato in tessuto a rete leggero e resistente che assicura un alto livello di traspirazione anche nei mesi più caldi. È stato progettato come un correttore di postura e per aiutare a gestire i problemi della parte bassa della schiena sostenendo la zona lombare inferiore. Grazie alla sua doppia regolazione, ti accompagna nella vita di tutti i giorni, fornendo supporto per la schiena e garantendo una flessibilità che permette la libertà di movimento senza sacrificare il comfort. Può essere utilizzato per varie attività ricreative e sportive, compreso il ballo. La sua forma sottile lo rende discreto se indossato sotto i vestiti. Trovi il link Amazon di questo prodotto in basso nella descrizione. 3. Questo è un supporto molto utile per tutti coloro che soffrono di problemi alla schiena e desiderano proteggere la loro parte bassa della schiena da un intenso sovraccarico. Questo prodotto può essere regolato grazie a una o più cinghie di velcro. Le doppie cinghie di compressione lo rendono più solido pur mantenendo un grado ideale di comfort. Ha anche 4 aste rigide che forniscono un supporto extra per la schiena. È ideale per le attività quotidiane così come per l'esercizio e lo sport. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. 2. Realizzato con materiali di altissima qualità, questo supporto lombare è stato sviluppato con una tecnologia stabilizzante che lo rende così comodo che vi dimenticherete di averlo addosso. La cintura interna in neoprene favorisce una compressione efficace mentre l'elastico trasversale corregge la postura e stabilizza la colonna vertebrale. Il meccanismo avanzato di doppia regolazione fornisce una compressione flessibile che si muove con te assicurando il corretto allineamento muscolo-scheletrico. La fodera elastica interna agisce come un corsetto e fornisce un sostegno ideale così come la correzione della postura a livello della parte bassa della schiena. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. 1. Fornisce un supporto lombare ottimale pur mantenendo la libertà di movimento. È comodo da indossare perché favorisce un'adeguata traspirazione mentre il materiale flessibile assicura la massima vestibilità. La doppia chiusura a strappo permette di regolare il livello di sostegno e di comfort. 5 aste metalliche sono incluse nella struttura per fornire un sostegno sufficiente alla parte bassa della schiena. Non impedisce nessun tipo di attività fisica allevia il mal di schiena e aiuta a mantenere alti i livelli di energia. Trovi il link di questo articolo in descrizione.